Sonia Bruganelli ha una casa straordinaria. Situata nella capitale Roma, è stata analizzata nei dettagli dal sito Lego che ha riportato tutti i dettagli del suo appartamento. Possiamo subito dire che si trova vicinissima a quella dell'ex marito Paolo Bonolis, infatti la separazione avviene solamente tramite una porta interna, quindi hanno un collegamento ma sono indipendenti tra loro. Dunque, entrando nei particolari della casa di Sonia Bruganelli, abbiamo l'open space che vede la presenza di un salotto e di una sala pranzo con zona relax e zona funzionale. Il salotto ha dettagli moderni e troviamo un tavolino con oggetti sopra, tra cui un vaso di piante dorate e alcuni libri. Nell'area relax c'è una poltrona e un divano di colore grigio. Frontale c'è una televisione e sulla parete sinistra si intravede la porta bianca che collega la dimora con quella di Bonolis. La poltrona di design è di Louis Vuitton e ha un valore di 16.000 euro. Poi passiamo al bagno di Sonia Bruganelli, infatti nella sua casa quest'area dell'appartamento è lussuosa e ha una grande televisione a parete, infatti, lei guarda la tv mentre si gode un bel bagno. La vasca è di colore bianco e le tende sono nautre. Vicino alla vasca possiamo vedere dei prodotti di bellezza, tra cui articoli di lusso. Poi c'è la spa privata, elegante e rilassante. Il sito Lego ha aggiunto che il design è di qualità e c'è una doccia con particolari in vetro. Le pareti sono di una finitura naturale e l'arredo permette di avere comfort e benessere. La camera da letto di Sonia è elegante e piena di luce, ha grandi finestre e specchi con arredi curati. Il pavimento è in legno a spina di pesce e vediamo anche una scrivania. Infine, ci si è soffermati sulla vista dalla sua abitazione, infatti Sonia può ammirare un paesaggio spettacolare con edifici storici e particolari architettonici romani, dove si possono apprezzare magnifici tramonti. E questo è tutto, cosa ne pensate?